La nave salta fuori dalle pagine, come vedete ci sono dei piccoli hotspot con il nostro logo. Selezionando un hotspot possiamo andare a cercare i vari dettagli. Vedete? Selezionando l'hotspot possiamo selezionare il dettaglio. Per esempio, scusate ma mi viene quasi naturale, io andrei a curiosare nella cioccolateria. Quindi l'abbiamo selezionato, lo tocchiamo una seconda volta e ci immergiamo all'interno dell'ambiente. Naturalmente è un ambiente a 360 gradi, quindi basterà girarsi.